Una parte consistente della nostra gente, come ci dicono tutti gli istituti di ricerca e da ultimo l'Istituto Cattaneo, ha scelto di votare no. Anche qui, guardate, si può far finta di non vedere, ma questa è la verità. E nel PD c'è stato chi ha scelto di rappresentarli. Questo oggi, secondo me, può aiutare il PD a non chiudersi in se stesso, ad evitare il suicidio di immaginare che la coalizione del sì al referendum sia trasformabile in un nuovo soggetto politico. Le prossime elezioni le vinceremo solo se saremo in grado di convincere a star con noi almeno una parte di chi ha votato no. Questo dovrebbe dirlo il segretario del PD. Oppure, caro Renzi, devi avere il coraggio di dirci con chiarezza il contrario, senza nasconderti dietro gli insulti organizzati su internet o le manifestazioni promosse qui sotto, davanti al Nazareno. Cioè che non c'è più spazio nel PD per chi ha votato no. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.